40 milioni di euro in fumo ogni anno a Ferrara e provincia, 315 euro pro capite spesi in slot machine, scommesse online, gratta e vinci e non solo, relazioni familiari distrutte o famiglie in bancarotta fino a portare le persone alla depressione. Questi gli effetti più oscuri del gioco d'azzardo nella città estense e nel suo territorio, un fenomeno in crescita soprattutto dopo l'avvento delle scommesse online e che ha portato l'azienda USL di Ferrara a seguire quasi 140 casi di persone a sue fatte nel 2018, nel 2006 13 anni fa erano 26, più di un quinto in meno rispetto all'anno scorso. È forte il grido d'allarme lanciato dall'azienda sanitaria che vuole sensibilizzare l'opinione pubblica su questo fenomeno organizzando anche incontri nelle scuole ed eventi. Il gioco d'azzardo diventa patologico quando proprio inibisce le potenzialità delle persone, allora bisogna che i giovani sappiano che internet e tutta la tecnologia non va demonizzata ma sicuramente non la possiamo subire, la dobbiamo governare. I giocatori d'azzardo patologici sono in prevalenza maschi tra i 40 e i 50 anni, metà dei quali ha un lavoro regolare e forte rischio vergogna da parte dei familiari di questa persona, una sensazione che rischia di trasformarsi in depressione vissuta dal soggetto stesso. C'è un problema totale, questa persona rompe oppure mette in crisi i rapporti familiari, mette in crisi i rapporti sociali perché entra in uno stato di vergogna, di isolamento e di disperazione proprio e quello che noi cerchiamo di fare è di ricostruire soprattutto i legami che possono aiutare le persone a sperare di farcela e ce la fanno. Una piaga pericolosa della nostra società l'ha definita Claudio Vagnini che definisce l'azienda USL come un donkey shot che combatte i mulini a vento. La soluzione del problema effettivamente non esiste, il problema va risolto, va attenuato cercando di mettere in atto delle misure coercitive che non posso mettere io da direttore di un'azienda sanitaria ma deve essere un sistema politico che dice chiaramente cosa si può e cosa non si può fare. Noi dobbiamo intervenire su questo sistema, lo dobbiamo fare con le nostre poche forze e speriamo che il legislatore ci dia una mano ma veramente una mano importante. Se si è riusciti a bloccare quello che era il fumo all'interno dei locali pubblici, l'abuso di fumo che si faceva fino a qualche anno fa, possiamo anche intervenire drasticamente su quello che è il tema della pubblicità ma anche della presenza delle slot machine, del videopoker all'interno di strutture pubbliche e messe oltretutto collocate anche in posizioni che sono veramente fuori da ogni logica etica perché messe al centro di un paese o di fianco a, di fianco insomma, in vicinanza di una scuola oppure all'interno di un circolo sociale. Questo io credo che sia veramente qualche cosa che non dobbiamo smettere di girarci dall'altra parte. Il direttore sta riflettendo se scrivere al ministro dei beni culturali, il ferrarese Dario Franceschini per portare questo allarme nel Consiglio dei Ministri.